Allora premesso che è disco rosso questo qui mandate i bambini a dormire ah se no glielo fate vedere ai bambini non mi puoi dire che toglie per un altro strutturato la vengo dalla casa e andate là e parlo con l'angelo Allora premesso questo due carabinieri ero in missione gli ho mandato in missione, segreta arrivano in tutta la città, non trovarono alberghi c'era l'unico albergo che c'era, c'era una camera matrimoniale libera mi diceva maresciallo si appuntava, che facciamo? dormiamo in macchina? perché? che c'è solo una stanza libera matrimoniale maresciallo partiamo a dormire, è sorricchione voi si tricchiona voi se no è un sorricchione si sposate con i figli allora col cammino insieme, dove è il problema? se no va bene per te va bene pure per me andiamo, si curcano tutte le due versicci dalla mattina a notte sentiamo vanno una maresciallo mi dicono vanno una ascolta ci ci fanno niente ate maresciallo dormite ma maresciallo merividuo averla dormite qu 16 doing e ascolta sono tornate a dormire non preoccupare manca un'ora tutto 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 tutto. maresciallo ". ma premiamo Qui si tor surprise mandiamo una ascolta na Ozzitti, sto a cuore mia! La verità! Dopo il primo punto... ...dò che sono i miei panni... ...eppicca la luce... ...ma che caccio ti faccio? Ci ha una vela che dire! Come mi sta a cercare una muggera di una caccia? Che c'è un caccio? E' un caccio!